29 settembre dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 1 versetti da 47 a 51 in quel tempo Gesù visto Natanaele che gli veniva incontro disse di lui ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità Natanaele gli domandò come mi conosci gli rispose Gesù prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi gli replicò Natanaele rabbì tu sei il figlio di Dio tu sei il re di Israele gli rispose Gesù perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi tu credi vedrai cose più grandi di queste poi gli disse in verità in verità io vi dico vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo cari amici il 29 settembre è una data particolarmente cara perché il giorno della mia ordinazione sacerdotale è avvenuta ben 44 anni fa e cioè il 29 settembre del 1973 vi chiedo una preghiera affinché il Signore mi dia il dono della perseveranza il dono cioè di servirlo nel sacerdozio fino a quando ne avrò le forze grazie a youtube sta nascendo una piccola parrocchia virtuale fatta di 124 iscritti a questo canale e da tanti altri che ricevono e ascoltano il commento includo in questa parrocchia virtuale anche i 67 follower e i tanti ragazzi che mi seguono su instagram è una gioia meditare con voi ogni giorno il vangelo è come nutrirci insieme di ciò che di più genuino possa esserci mi viene spontaneo cantare con il salmo 41 versetto 3 l'anima mia sete del dio vivente quando verrò e vedrò il volto di dio ogni giorno vissuto nel signore si prepara cari amici e grande giorno della nostra nascita al cielo san francesco andava in giro cantando tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è di letto con voi cari amici ricordo anche tutti gli altri fratelli e sorelle che dio mi ha affidato nella comunità parrocchiale che ho l'onore di presiedere nella carità è un cammino faticoso come lo è ogni cammino che voglia avanzare nella santità della vita ma è un cammino ricco di tanta gioia dio benedica tutti in attesa di poter contemplare come natanaele cose più grandi di queste gesù assicura anche a noi in verità in verità vi dico vedrete il cielo aperto e gli angeli di dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo buona giornata del signore